Signora Italia Pogna, posso metterla su YouTube questa cosa? Sì, vabbè. Allora, raccontiamo, facciamo una piccola cosa. Noi ci siamo incontrati, la signora ha chiesto un taxi, ha fatto un taxi al volo. Sono arrivato io, l'ho presa e come faccio con tutti i miei clienti? Gli ho detto se sapeva cantare. La signora è una cantante vera. Tra parentesi, ragazzi, ha cantato con Mario Biondi. Chichi, Mario Biondi. E dal suo ultimo LP che ha fatto, adesso ha detto che mi regala un pezzettino, oppure la canzone se la vuole cantare, di una canzone di Peppino Di Capri. Sì, non è peccato. Non è peccato che ho cantato insieme a Mario. Io ho tradotto questo brano napoletano di Peppino in portoghese. Tra l'altro appunto ho fatto un CD di canzoni napoletane classiche che ho tradotto appunto in portoghese. E non è peccato, Mario gli piacque tanto, dove abbiamo fatto due concerti, diciamo, che lui mi ha invitato a cantare con lui come ospite e abbiamo duettato. Bellissimo, io già muoio, sono stato a pensare. No, ma non ci posso credere, questa è una cosa proprio... Io sono il Duca, io sono il mio canale, faccio queste cose così con i miei clienti. Poi quando capita la persona che è capace a cantare, che è una cantante vera, io vado ancora in disibiglio, ancora di più. C'è un poeta brasiliano che dice La vita è l'arte dell'incontro. Vinicius de Moraes. È una frase che io, diciamo, ci credo tantissimo, perché ora guarda, cioè io prendo il taxi a volo. Wow, a volo, è una cosa incredibile. È incredibile. Ma bellissimo. E tra l'altro sto andando a vedere un concerto di un mio carissimo amico, e quindi ho preso quel taxi a volo, ho detto non voglio prendere la macchina, vado al centro. E ha preso il Duca. E ho detto facciamo presto, è tardi. E così ho preso il Duca. Il Duca Guanara. Non ci posso credere, non ci posso credere. Non è neanche io che ci posso credere. Però questo pezzettino ce lo regala, questo pezzettino. Certamente. Perché l'Italia ha fatto, non è peccato, l'ha tradotto in portoghese, niente proprio di meno. È un po' già, è un po' già, va sentire. Dopo si compromettano il Duca, però prima già va sentire così. Se mi sonhas, nos teus sonhos, non è peccato. Se un sonho, un beijo, mi deres, non è peccato. Eu te olho, con os olhos sinceros, eu te falo, abraçando-te forte. E se pensas que non è amor, o amor che tu tens, onde stai? Se questa bocca deseja un beijo, non è peccato. Se non pensi se mi è il tuo sogno, puoi acabar tu. Abbrassami, non è mai forte, aperto a me, perché l'amore che sentis per me, peccato non è... Ragazzi, però una cosa... È una magia stare qui te, in questo taxi. Tra parentesi, noi ci chiamo pure Mario Bionde, la prossima volta, chiamo il taxi insieme, ce la fate sentire tutta, con la base, tutto, pure in playback ce la sentiamo. Grazie tanto Italia, sei stata gentilissima. Ciao, un bacio. Saluto agli amici del Duca. Ciao, amici del Duca. Ragazzi, potete prepararci di male, sentite questa, come l'ho fatta così. Figurate che ha la musica sotto. Ciao a tutti e grazie. Allora, la posso mettere su YouTube o su Facebook, sul mio canale. Ok, 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 ciao. Grazie, ciao.